Il 16 ottobre nasce a San Cataldo un comitato spontaneo di cittadini, per quale ragione? Allora, la ragione è una sola. Siccome io ho un patronato, diciamo, e quindi sono in contatto sempre con la gente e i problemi sociali che ci sono. Quindi la gente ci esortava in molte occasioni, ma perché non nasce un comitato spontaneo? Per confrontarsi con l'amministrazione. È un comitato di cittadini, di persone, di categorie, di imprenditori, agricoltori, tutte, diciamo, le varie fasce dell'imprenditoria sancataldese, per vedere insieme all'amministrazione qualcosa per risvegliare questa amministrazione. Pertanto il comitato si propone di chiedere formalmente un incontro con l'intera amministrazione. Teniamo a precisare che questo comitato non ha nessun riferimento politico, nessun colore, per cui ogni azione fuori dai contenuti sociali e di interesse della città non sono da attribuire a questo comitato. Quali sono questi problemi? Elenchiamone un po'. I problemi quelli che ci sono sono il rilancio di sviluppo economico, si è fatto una campagna elettorale sul rilancio della città. Oggi io credo che abbiamo visto ben poco, salvo la buona volontà da parte dell'amministrazione. Sembra che siamo ritornati a metà ottocento, con il re Franceschiello, chitarra e mandolino, feste, ma senza affrontare mai i problemi reali che ci sono. Gli imprenditori cosa vorrebbero dall'amministrazione comunale? Allora, dopo vari tentativi di colloquiare con questo sindaco, purtroppo non ci siamo riusciti, perché il sindaco praticamente ha solo una via, o con lui o contro di lui. Noi invece, parlando con tante persone, abbiamo formato questo comitato cittadino spontaneo e chiederemo un tavolo di confronto col signor sindaco, sperando che ci riceva, e facciamo questo confronto. Noi chiediamo solo questo, vogliamo solo il bene di San Cataldo. La crisi a San Cataldo è forte, ma in che modo un sindaco può intervenire? Allora, il sindaco, la sua battaglia è stata il rilancio del centro storico. Se noi parliamo esattamente, se rilanciamo il centro storico, San Cataldo è un paese bellissimo, un centro storico grandissimo, rilanciando solo il centro storico, nascerebbero tanti lavori. Lui ha presentato un progetto, ma noi lo vorremmo, con tutti gli imprenditori, i piccoli artigiani, vogliamo rivederlo, parlare assieme e vedere dove sta, dove è il problema, e di sistemarlo. Per vivere bene a San Cataldo, cosa occorrerebbe? Guarda, cambiare un pochettino tutto, perché io ti posso dire, vivo in un ambiente scolastico, dove vedo i ragazzi che effettivamente hanno difficoltà anche a venire a scuola, pagarsi libri, eccetera, perché i genitori non lavorano e qua a San Cataldo si sente effettivamente la crisi che c'è. Ci vorrebbe veramente darci tutti una mossa a questa amministrazione, aiutare e stare vicino alla sua città, perché ha bisogno veramente di cambiare, c'è tantissime cose che non vanno.